ragazzi com'è c'è poco da fare stiamo godendo com'è che ci dite sempre quando non vanno bene le cose dai eh appena finita la partita Inter Milan cento minuti di bombardamento interista alla porta del Milan una partita che l'Inter ha eh ampiamente dominato ha mandato un gran bel messaggio a questo Milan che aveva trovato un gol ancora una volta proprio come al derby di campionato su errori nostri soprattutto con uno Zlatan Ibrahimovic che eh è stato decisivo anche oggi sono molto molto contento di come abbia deciso questo derby perché ormai lui si è costruito questo grande giocatore tecnicamente non si discute si è costruito questo personaggio da provocatore che non mi piace non mi piace per nulla e stanno girando retroscena su queste dichiarazioni che ha che avrebbe fatto infurare Lukaku che sono veramente gravi eh se saranno confermate ovviamente io adesso non ho la conferma perché la partita è appena finita ma se saranno confermate queste dichiarazioni mi aspetto un provvedimento esemplare nei confronti di Zlatan Ibrahimovic che per far arrabbiare Lukaku non perché noi siamo un po' di parte ovviamente ma per far arrabbiare Lukaku eh mi aspetto che ci siano state dichiarazioni molto molto gravi nel primo tempo e poi soprattutto è stato clamorosamente ingenuo a beccarsi anche il secondo giallo nel secondo tempo da lì in poi ultimi trenta minuti assedio totale di un Inter che ha costruito almeno quindici buone occasioni da gol è stato i numeri parlano di oltre venticinque tiri in porta eh per l'Inter quattro solamente anzi venticinque ventotto tiri dell'Inter quattro tiri complessivi del Milan quattordici tiri in porta dell'Inter sessantotto per cento di possesso palla eh nerazzurro tatarusano dodici parato e anche oggi ci aveva provato il portiere milanista a fare il miracolo a trasformarsi contro l'Inter invece è stata la più bella delle faule io ragazzi sono contentissimo per come sia arrivata questa vittoria perché non meritavamo di stare sotto e eravamo andati sotto Ibrahimovic meritava di essere cacciato non era stato cacciato li abbiamo bombardati completamente partita dominata dall'Inter che l'ha giocata da grande squadra sono mancate è mancata quel cinismo come dicevamo sempre però sono contento di come sia arrivata la vittoria nel finale prima il rigore trasformato proprio da Lukaku ho avuto un po' di paura perché Lukaku è stato molto innervosito appunto da Zlatan Ibrahimovic e poi soprattutto la ciliegina sulla torta che secondo me può essere il punto di svolta di questa stagione dell'Inter con Christian Eriksen entra e mette una punizione perfetta lo dicevamo prima di commentare in diretta la gara dal 2018 l'Inter non segnava su calcio di punizione arriva Eriksen la mette dentro e decide questo derby meritatissimo da parte dell'Inter che avrebbe meritato di vincere con un comodo tre o quattro a zero ma forse così dà ancora un segnale più forte al Milan che quest'Inter è superiore è più forte però dobbiamo dimostrarlo e dobbiamo farlo premando tutti dalla stessa parte vi leggo le pagelle di questo Inter Milan e le pagelle curate dal nostro Antonio Siragusano che ci segnala un voto sei a Samir Andanovic che è rimasto fermo sul tiro di Ibrahimovic lì in tanti hanno criticato Andanovic però Ibrahimovic aveva trovato un angolo impossibile dicevo dicevo le doti tecniche di Ibrahimovic sono indiscutibili lì aveva trovato un grande gol Skriniar sei e mezzo molto lucido e intelligente la FLA nei primi cinque dieci minuti ha avuto un po' la meglio ma poi non si è più visto De Frij sei e mezzo ha retto bene il duello fisico con con Ibrahimovic finché è stato lui a marcarlo poi Kolarov invece cinque e mezzo lui sì che è stato macchiato soprattutto appunto in occasione del gol alla lunga è cresciuto e soprattutto ha avuto il merito di far respellere appunto proprio lo svedese Darmian sei prestazione sufficiente sono d'accordo con il voto del nostro Antonio Siracusano Hakimi sei e mezzo è entrato bene ha messo subito in difficoltà Teo Hernandez proprio come al derby di campionato va ancora una volta a lui il derby delle due frecce sulla fascia Barella sette assoluto trascinatore bellissime anche le parole di Niccolò Barella nel post partita che ha caricato l'ambiente nerazzurro tutti compatti Brozovic sei partita un po' nell'ombra la sua eh tanto sacrificio oggi Eriksen sette e mezzo io ragazzi Eriksen do un dieci oggi perché è entrato con grande intelligenza ha segnato il gol decisivo ha lanciato un grosso segnale a tutto l'ambiente ha lanciato un grosso segnale al Milan ha fatto un gol che secondo me può essere il punto di svolta di questa stagione nerazzurra per questo io personalmente rispetto ovviamente il voto del nostro Antonio che gli dà sette e mezzo lui ovviamente è più più pacato rispetto a me io gli do dieci oggi a Cristian Eriksen Vidal cinque e mezzo oggi un po' in ombra Arturo Vidal sono d'accordo Perisic sei a me Perisic non è dispiaciuto soprattutto nel primo tempo Lautaro Martinez sei è entrato bene ha avuto subito un buon guizzo aveva trovato anche una giocata geniale per Lukaku che poi è stato fermato da un miracolo eh di Tataruzano oggi assoluto protagonista migliore in campo del Milan eh proprio Tataruzano e eh infine Lukaku sei e mezzo però ecco dicevo scusate eh Lautaro Martinez ha la pecca di aver sbagliato un gol eh che poteva fare Lukaku sei e mezzo e sono d'accordo è stata una partita un po' in ombra ma comunque il duello con Romagnoli lo ha vinto e Tataruzano gli ha sbarrato la strada e la strada in diverse occasioni in più ha avuto il merito di segnare un rigore fondamentale pesante come un macigno Sanchez sei e mezzo il Nino Maraviglia ha fatto una buona partita secondo me un po' fumoso può migliorare soprattutto negli ultimi metri ehm questi erano i nostri voti quindi per questo derby fatemi sapere se siete d'accordo con i voti di del nostro Antonio Siracusano l'Inter accede alle semifinali di Coppa Italia che saranno in andata e ritorno mancheranno giocatori importanti come Lukaku e Achimi che erano diffidati e saranno eh squalificati e si giocherà contro la vincente di Juventus Spal però ragazzi lo avevo detto prima questo è un derby che può avere un grande peso anche e soprattutto sul campionato e sono davvero contentissimo di questa dimostrazione di assoluta forza da parte dell'Inter che ancora una volta dimostrato di essere superiore a questo Milan e adesso dobbiamo dimostrarlo anche sulla continuità mi raccomando iscrivetevi al nostro canale vi ricordo di seguirci su tutte le piattaforme di podcasting Spreaker Spotify Apple Podcast e Google Podcast mi raccomando eh iscrivetevi al nostro canale e entrate nel club di Passione Inter trovate il link per abbonarvi in descrizione Grazie mille